Bella a tutti signori e benvenuti nel 51esimo episodio della nostra Master League Signori, la nostra corsa con la Roma verso l'ipotetico scudetto continua E noi ci continuiamo a credere giorno dopo giorno Veniamo dalla grande vittoria contro l'Inter Vittoria di carattere, di carattere E niente, e niente, grande prestazione di Espimas Che se appunto Bavangelo dovesse essere ancora rotto, si è guadagnato il posto di titoloare Detto questo signori, prima di partire dal video vi ringrazio per i like, per i commenti, per i studenti e per il supporto E vi ricordo di iscrivervi sempre al canale Detto questo procediamo con l'incontro di oggi Io sto registrando sempre rapida successione signori Quindi i commenti li leggerò tutti mercoledì E quindi farò un sunto dei vostri commenti e dei vostri suggerimenti E vedremo un attimino di apportare delle modifiche nell'episodio di venerdì Se mi avete dato dei suggerimenti da apportare Allora, siamo in casa Oh, finalmente torniamo a giocare a casa dopo un sacco di tempo Che giocavamo sempre fuori casa Andiamo a rifare tutta quanta la formazione Lo so che è una gran rottura di scatole signori Però Anche a me tocca fare questo Quindi anche a voi vi Diciamo così Vi porto in queste fasi di... è vero Potremmo salvarla adesso Questa è una formazione che abbiamo fatto l'altra volta Però aspettiamo È ancora in fase di rodaggio questa formazione Questa formazione è ancora in fase di rodaggio Detto questo va bene Ok Andiamo a cambiare undici undicesimi di squadra Allora, Castello già deve uscire i pettotti Stojkovic per Miranda Da questa parte Babangita è ancora rotto Babangita è ancora rotto Quindi non giocherà Fa entrare Jorni Allora, abbiamo Jorni Semau No, Semau lo metti sulla fascia Che però così io non mi sono incoglianito Ok Sulla fascia sinistra A posto di Stromer Turam lo metti di qua Semau lo metti di qua Jorga lo fai uscire per Cafu Me ne manca uno Signore, i giorni è qui Ok Semau dove cazzalo lei? Oh, Semau Devi uscire Devi far per Stromer Semau e Cafu Cellini fuori per Davids E abbiamo al posto di Stromer Ungerto e Spimas Che si è guadagnato Signori, zitto zitto Il posto da titolare Quindi Ivano, Valeri, Turam Semau, Cafu Davids, Espimas Cerni, Stojkovic Totti, Henry Ci siamo Andiamo a giocare contro Ho visto bene Contro il Real Contro il Real Madrid Signori All'andata fu goleata Se non ricordo male All'andata fu goleata Vediamo Vediamo oggi Vediamo oggi Vediamo due grandi vittorie Due grandi vittorie Che ci hanno permesso Di staccare e mantenere Tre punti di vantaggio Sulla Sulla Lazio Vediamo se anche oggi Riusciamo a ripetere A mantenere questi Bei tre punticini Attenzione Già subito Il cross Davids Attenzione Stojkovic Stojkovic Da nulla ci prova Niente Subito un primo tiro Di Stojkovic Ma il portiere c'è Casillas c'è Casillas c'è Signori Casillas c'è Attenzione Non fa credinate Attenzione Non fare credinate Mi raccomando Parte il traversone Al centro Riusciamo a metterla fuori No ma loro sono più veloci Attenzione Giornì contro Roberto Carlos Robby Sappi che se vinciamo lo scudetto Tu sei il nostro obiettivo Signore l'ho detto Roberto Se vinciamo lo scudetto Al primo anno In serie In serie Con la Con la Porca miseria La stavo per passare Si è vero Stavo per entrare No no Davids 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 Provaci Provaci Davids No L'ho visto preciso Che mi sta venendo a prendere Redondo Redondo Maledetto Redondo Dai che fuori Dai che fuori Con Cafu Con Roberto Carlos Quello va a prendere pure Dai passalo Passalo Bravissimo Giornì E' partito Giornì Signore E' partito Giornì E' partito Giornì Che voleva Passarla A Narri Ma Narri Non ha capito Signori E' stato Giornì Che l'ha data Troppo larga Non è stato Anri Che non l'ha capita E' stato Giornì Che Ha sbagliato No No Buco Difensivo Completo No L'ha tirata fuori Erroraccio Di Ovionic Chi era Ovionic Buco mentale Chi è Ovionic Non lo so Davids Davids Per Stagavic 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 Arri Non partecipa Arri 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 Mannaggia No Altro buco Difensivo Terribile Ma Valeric Ci mette una super pezza Ci mette una pezza Enorme E dai La devi passare Però zio Che cazzo Ti tieni la palla A tre ore Attenzione 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 1-2 1-2 Giornì No Espimas 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 La palla indietro Troppo indietro Troppo indietro Il nostro eroe Dello scorso video Riusciamo Riusciamo a fermarlo Grazie In tre A fare il ballo Dell'Alligalli Ok Palla per Giornì 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 Che decide Accentarsi Giornì 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 Cerca L'angolino Mannaggia 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 Davids Riesce a tornare Per Totti Totti Buttato giù Probabilo Dice che era sul pallone L'intervento E quindi Attenzione Attenzione Semau 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 Nel ruolo di terzino Si è un attimino Rinventato Siamo contenti di questo Semau Nel ruolo di terzino Si è rinventato Ivanov Riesce a prenderla Riesce a giocarla vicino Ivanov Bravissimo Ok Valeri Valeri Per Semau Semau Subito Per Giornì No Per Espimas Lo stavano braccando A questo punto Meglio la dava in profondità Cazzo non l'hai fatta Espimas mio No No Valeri Valeri In chiusura Valeri In chiusura Sbaglia completamente L'intervento Con calma Stojkavic Stojkavic Grandissima L'apertura per Giornì Che l'ha visto dal radar Attenzione Giornì 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 Era un passaggio In profondità Per Henry Signori Era un passaggio Non si è capito Lo so perfettamente Perché non l'ho capito Nemmeno io Attenzione No 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 Io non capisco Perché non devono Fare giusto I movimenti I passaggi Che gli dico di fare Non lo capisco Perché Non lo capisco Io gli dico di aprirla Sulla fascia E mi fanno ste cagate Guarda 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 Giornì 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 Ma ci avevi a Rilly Vicino Ma perché la devi da così tanto Indietro Non sto capice Che non sa neanche Se è vivo o morto Ma porca miseria Infame Aprila Oh Giornì 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 Mi sto cavolando Tantissimo Davids 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 per Caffù Caffù per Giornì Che non ci arriva nemmeno Se aveva un razzo Superillenatiche Praticamente Non ci arrivava nemmeno Quanto stiamo sprecando Signori miei Quanto stiamo sprecando Totti 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 L'apri per Harry 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 Nulla Il palla sul palo Palla sul palo Palla sul palo Di Harry Palla sul palo Di Harry Porca miseria Stokavic Per Esprimace Che niente Esprimace Ha perso La magia Ha perso la magia Che aveva in corpo Nello scorso video E niente da fare Niente da fare Ha perso la magia Signori Non è più Non è più magico Non sappiamo A cosa sia stata dovuta La magia Mamma mia Che brutta palo Giornì Giornì Per Stokavic 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 Per Esprimace Che decide di fermarsi E ridarla a Stokavic Che però Non è che è marcato Era proprio Braccato No 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 Mamma mia Sul finale Variente Stroll del vantaggio Del Real Ma porca miseria Ma porca miseria Ma porca miseria Giornì Giornì La parigia Ma di che cazzo Non stiamo parlando Signori Giornì Mezz'ora Ottomila miliardi Di azioni Abbiamo fatto Giornì Ha tentato Un colpo E l'ha trovato 1 a 1 Signori Il vantaggio Del Real Dura 30 secondi Forse No vabbè Scioccato 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 Non Non Boh Non 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 ho che dire Signori Non ho che dire E l'unica cosa Voglio cambiare Spimas Spimas Con giorni Sì Così Quanto meno Facciamo Come ai tempi Di babagita Signori Quanto meno Giornì Dovermo avercelo Qua sotto Adesso Ad essere più coperti Mamma mia Ma che cazzo Che cazzo Che cazzo L'ho visto Che cazzo L'ho visto Mezz'ora A fare 70.000 azioni E poi E poi praticamente Ritroviamo il pareggio Così subito Eeeh Brutto fallo Brutto fallo Su sto cavici Cafu 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 Per Davids 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 Ne abbiamo già preso uno Da Morientes Possiamo evitare Di prendere anche il secondo Questi giocano In rovesciata Questi Stanno a far calcio spettacolo Con la Roma Questi stanno facendo Calcio spettacolo A casa nostra Signori Fatemi capire un attimo Questi stanno a far calcio Spettacolo A casa nostra No Perché non ho ben capito Annaggia 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 Dammi Turam Grandissimo Turam Nell'intervento Davids Davids Si crea lo spazio No Non è abbastanza veloce Edgar Edgarino Davids Dai Dai che sei in due Dai che sei in due Grandissimo Bravissimo Valery Grandissima La copertura difensiva Di Valery Riparte La Roma Con Stojkavici 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 Che manda Arri 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 Che azione Della Roma Signori Di contropiede Porca miseria Calcio spettacolo Della Roma Grandissima Nel pallone Di Stojkavici Penarri Che da fuori aria La piazza Battendo Casillas Roma 2 Real 1 O questi sono venuti A fare calcio spettacolo A casa nostra Ma stiamo scherzando Ma stiamo scherzando Che questi vogliono Fare il calcio spettacolo Da noi Porca miseria Attenzione Espimas Riesce a ripartire Espimas 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 Lanciato ancora Arri Lanciato ancora Arri Che non ci pensa Due volte La piazza Di nuovo Dietro Alle spalle Di Casillas 1-2 Velocissimo Della Roma Incredibile Incredibile Signori Incredibile Incredibile I Galacticos Cambiano maglia Non sono più Real Ma è la Roma Signori Porca miseria Che 1-2 Pauroso Di T. Henry Henry Si è fatto No Che brutto fallo Di Cafu Fallo inutile Cartellino giallo Per il pendolino Cafu 3-1 Della Roma Surreal Incredibile 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 Ivanov Grandissimo Intervento Di Ivanov Calcio d'angolo Per il Real Raul La battuta Raul La battuta Parte tra persone Ivanov C'è Ivanov C'è Ivanov C'è Lancia 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 Lungo Pallone Lunghissimo Vediamo se riusciamo A vincere Lo vinciamo Lo vinciamo Lanciamo Espimas Che lancia Arri Attenzione Arri 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 Che stavo Volta Casillas Più veloce Di Tien Henry Attenzione Ancora Sto i cavici Sto i cavici Per Totti Totti Che manda al bar Lo manda al bar Signori Lo manda al bar Totti Totti Vuole partecipare All'impresa Cerca un tiro Un po' Eccessivo Eccessivo Incredibile Mamma mia Che serie di emozioni Che serie di emozioni Dare l'attenzione Attenzione Totti No Totti Mio Si è buttata a terra Si è buttata a terra Si è buttata a terra Il gioco Del real Simulazione Che si è vista Parese Parese Pallese Pallese Ivanov Grandissimo Con calma Con calma Ragioniamo Nessun problema Valeri Valeri Semau 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 Mi sono passato davanti Porca mi Grandissimo Valeri Valeri Che nei primi Nei primi episodi Di questa serie Era il più insultato Di tutti Signori Grandissimo L'apertura per Espimas Espimas Che guarda al centro Parte il traversone Totti Attenzione Davids Che da nulla Ci prova Real Preso Appallonate Signori Real Preso Appallonate Lo posso dire Proprio Riempendomi La bocca Signori Grandissimo No Davids Mio Che cazzo L'ora Fai Davids Suzzo Che stavo Di Non me lo ricordo Non me lo ricordo Attenzione Morientes Ci riprova Addirittura Azione Da gol Ma sto scherzando Vabbè Valeri Se è andato a fare Il giro al bar Valle Se l'era Completamente Giorni Che cos'è Questo colpo Da Che problema Abbiamo Signori Abbiamo Infatti Male Le caviglie Fanno male Le caviglie Attenzione Ancora Harry Harry che cerca Esprimas Esprimas Che accelera Questa volta Il traversone Parte prima Ma non c'è nessuno Giorni Era in ritardo Giorni Era ancora al bar A prendersi il caffè Harry 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 per Totti 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 Guadagna sia una spallata Che un calcio d'angolo Ancora Stagavic 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 Per Giorni Che riesce a girarsi Giorni 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 Cercaturam Che però La svirgole In maniera brutta La svirgole In maniera brutta Certo signori Se l'anno prossimo Dovessimo Combarci Un certo Roberto Carlos E diventa complicata Signore Diventa complicata Attenzione Palla per Totti Che però Totti ci arriva Totti ci arriva Mannaggia Ma non riesce Nel movimento giusto Non riesce Nel movimento giusto A Francescone Attenzione al Real Che comunque Ancora ci crede Real Che ancora ci crede Al quarantunesimo Sotto di due gol Era passato in vantaggio Morientes No Non era Morientes Aprila di qua Aprila di qua Aprila di qua Aprila di là Aprila da qualche Che parte Ok Turam Percafu Che la gira Mannaggia Mannaggia Grandissima Pallone recuperato Attenzione Ancora 1-2 Velocissimi La Roma La Roma In pieno possesso di gioco Pallone di Totti Aperto per giorni Giorni Che guarda il centro Che parte Traversone Per Harry Però Leggermente più indietro Minuto di recupero Il Real Attacca Fuori gioco Non so se c'era Però se l'abito Affischiato Noi siamo contenti Va bene così Semau 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 Pallone recuperato da parte di Semau No del Real Evitiamo di fargli fare il gol del 3-2 Così Dai così signori Mamma mia Mamma mia Che reazione Che reazione della Roma Che reazione della Roma Signori Che reazione della Roma Vinciamo 3-1 in casa contro il Real Una partita impressionante L'Inter pareggia contro il Manchester In tutto questo Leverkusen perde contro la Lazio 3-0 E continua nel testa a testa con la Lazio Manteniamo i tre punti di vantaggio Chelsea Valencia 2-2 Marsiglia Bayer di Monaco 1-2 Il Torino Batte Il Litz 2-0 Il Milan Vince 2-1 Contro il Dortmund Ok Il Buenos Aires Vince 3-1 Contro il Barcellona E mi sa Ha pareggiato 1-1 Contro il Manchester Incredibile Incredibile Signori Perché ha dato prima il gol Perché ha dato prima il gol Di Jorni Dopo quello di Morientes È stato al contrario Se è nato prima Morientes E poi Jorni Vabbè Su assist di Arry Stoekavic per Arry Ed Espimas per Arry Signori Io non ho che altro aggiungere Che altro aggiungere Se non Calcio spettacolo Calcio spettacolo Andiamo a 48 punti Stiamo facendo punti su punti E non so come spenderli Non so come spenderli Punti su punti E non so come spenderli Va bene Manteniamo i tre punti Di vantaggio Sulla Lazio Gol fatti 53 Gol subiti 31 Dai 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 Mi piace Mi piace 29 cartellini gialli 7 cartellini rossi Mi fate vedere Semplicemente una cosa Ah Classifica Marcatori Herber 27 Arry Eferma 22 Porca nera Nonostante abbia segnato Arraffi In queste partite Herry Non riusciamo A farlo salire E poi Gli altri romanisti Do stanno Babangita Eferma 8 Giornia 6 E invece Come assist Babangita 14 14 Henri 5 Vorlanden 5 Totti 4 Stokavic 4 E stop Va bene Signori Detto questo Vi ringrazio per aver guardato questo video Vi ringrazio per i like Per i commenti Per i giudenti E per il supporto Continua la nostra avventura In cui ogni giorno Ci spereremo Sempre di più Detto questo Signori Vi ringrazio per aver guardato questo video Noi ci vediamo Sempre qui Domani Con un nuovo appuntamento Bella raga Ciao Ciao